Siamo con Paolo Righi, presidente Fiaip, un momento di mercato ovviamente non semplice, ci sono in ballo molte iniziative, però bisogna cercare, almeno come avete detto voi recentemente, come associazione, cercare di fare ripartire subito questo mercato che in questo momento è fermo, anche con delle iniziative che sgravino un po' il peso di quella che è la transazione immobiliare. Qual è la sua opinione a riguardo e cosa si potrebbe fare per cercare di rimettere in moto il sistema? In un settore come quello immobiliare che cuba più del 20% del PIL, il fatto che l'ultimo governo, ormai da un anno, abbia introdotto una forte tassazione e che ancora si parli di patrimoniale, dopo quella dell'Imu che è già una patrimoniale, e si parli anche di riforma del Catasto, una riforma del Catasto che poi sicuramente creerà una tassazione ulteriore, noi chiediamo al governo di fare un piano urgente per il rilancio del settore immobiliare, perché sicuramente se il settore immobiliare non ripartirà, non ripartirà questo Paese. E quello che noi chiediamo è sostanzialmente uno sgravio fiscale per le compravendite sotto i 200 mila Euro, un abbassamento o l'eliminazione dell'Imu per i primi tre anni se una famiglia sotto i 40 anni acquista una casa e tutta una serie di agevolazioni che pur devono favorire la ripresa del settore economico. Un'altra cosa che vogliamo dire anche oggi fortemente a tutti quanti è che è bene ascoltare tutti gli uffici studi che in questi anni si sono avventurati in tanti studi, il problema però è questo, che oggi il mercato immobiliare per FIAIP, per il centro studio di FIAIP è giunto al limite del ribasso e quindi attenzione a non perdere le occasioni che oggi ci possono essere sul mercato perché sicuramente se il piano della BCE per salvaguardare il differenziale e gli spread dovesse partire e quindi le banche se dovessero liberare risorse per poi rigettarle sui mutui ecco che allora il mercato ripartirebbe e le occasioni di oggi sicuramente non sarebbero più presenti. Quello che teniamo a specificare è che storicamente il mercato immobiliare ha sempre garantito la tutela degli investimenti e il mantenimento dell'inflazione. Con ultima battuta voi in sostanza come associazione vi auspicherete in futuro addirittura l'eliminazione di questa tassazione dell'Imu che anche a livello psicologico ha un forte impatto sull'acquirente. L'Imu sostanzialmente è una patrimoniale, qui bisogna cambiare al di là dei nomi e delle imposizioni fiscali bisogna comprendere che un bene deve essere tassato per il reddito che produce e se si tasserà la casa per il reddito realmente prodotto saremo in presenza di una tassazione equa, se invece si colpiscono semplicemente le rendite siamo in presenza di una patrimoniale e quindi anche il ragazzo che eredita un'unità immobiliare sarà costretto eventualmente a venderla perché casomai se è operaio non ha i soldi per pagare l'Imu. Ecco allora voglio dire attenzione a non deprimere questo mercato perché il nostro paese è fondamentalmente, nasce con l'immobiliare, vive con l'immobiliare in buona sua parte e quindi il governo deve prestare attenzione al nostro settore e non tralasciarlo a favore di altri settori che poi come l'industria che sicuramente è importante ma sappiamo che i vari processi porteranno alla maggior delocalizzazione delle industrie e quindi attenzione a dove il governo dà gli aiuti perché il settore immobiliare è veramente importante.